Stavolta non sembrano esserci più dubbi, il Parco Spigarelli sta finalmente per aprire i battenti. Non è un azzardo di chi scrive, ma la realtà dei fatti ufficializzata direttamente dall'assessore all'ambiente Manuel Magliani. L'amministratore competente in materia ha infatti anticipato che entro la settimana sarà finalmente definito l'iter burocratico relativo al collaudo dell'opera. realizzata con fondi enere dall'impresa Sacchetti, i cui lavori erano stati praticamente ultimati oltre un anno fa. Quindi nel periodo successivo alla Pasqua, l'area verde attesa da così tanto tempo non solo dai residenti del quartiere di San Gordiano, ma da tutta la città, potrebbe finalmente mostrarsi in tutta la bellezza successiva ad un eccellente intervento di restyling. Problemi di vigilanza non dovrebbero essercene, visto che, come già spiegato in altri precedenti articoli, nell'area è già presente un addetto di una società specializzata. Si tratterebbe quindi di continuare a far svolgere un servizio già effettuato da mesi. Più avanti nel tempo, probabilmente entro l'estate, sarà poi possibile vedere aperto il manufatto che ospiterà il bar, pizzeria, ristorante, per la cui gestione è stato pubblicato un nuovo bando che andrà in scadenza alle 9.30 del prossimo 5 maggio e per il quale gli interessati hanno tempo fino a mezzogiorno del 24 aprile per poter chiedere eventuali chiarimenti. Viceversa, all'area verde le due sezioni dedicate ai cani, i giochi e tutti i percorsi benessere potrebbero finalmente essere fruibili in tempi strettissimi e si porrebbe anche fine all'inevitabile processo di degrado delle strutture determinato dal perdurante mancato utilizzo. Insomma, anche volendo fare tutti gli scongiuri del caso, sembra finalmente essere arrivato il momento nel quale i civi da vecchiesi potranno avere a disposizione una nuova e grande area verde attrezzata. Sicuramente la migliore della città e tra le più belle dell'intera regione.